Applauso, per retouria, inizia la prima batteria! Appena numero 5, 18 venti! 5 venti di passione, 5 venti di più! 3 venti! 4 venti di passione, 4 venti di passione! Vai chiede! Vai chiede! Vai dico, vai dico! Sono 4 batterie dutali! Vai, viti! Voi Piedra! Voi Piedra! Voi Piedra! Voi Piedra! Voi Piedra!